Questa sarà la nostra più grande avventura. L'inesplorato nord del Fredyord. Trova il cuore del blu, Nuno. Cerca la montagna alata, Nuno. L'Oieti e il bambino sono così vicini. Ah, quello sciocco eroe. Mi occuperò di lui. Poi l'Oieti mi dirà tutti i suoi segreti. Almeno il mio migliore amico è un Oieti, grosso come Tred Ruvask. Scusa, volevo solo provare l'Echo. Questo posto è enorme! Willow! Tu porti una fiamma, bambino. La scintilla di Anivia. Cos'è questo? 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 che ci sia un intero esercito alle porte. Un esercito di nome Braum.